come definirlo, c'è una cosa incredibile, grazie per le attività che abbiamo ospitato lunedì sera e non sapevo dove guardare, cosa fare, o Pama Calcio che ha mandato qui gli altri ragazzi, al mister Gigi Apolloni sempre stendi da forma, potresti fare anche tu altre duecento e cinquanta partita, lasciatemelo fare stavolta, un ringraziamento speciale a quella testa matta di Lick da via Palermo, mio figlio, la mia compagna che ormai mi piaccia fuori a tutti i ragazzi dei boys che anche martedì sera mi hanno invitato là e a tutti quelli che mi stanno aiutando dalle ediccole ai bar della mia nuora, si può dire nuora, si, adesso c'ho una chicca perché tutti, quasi tutti, chi mi conosce bene bene purtroppo lo sa che lavoro faccio, quindi devo fare un regalino, un regalino a quel disgraziato di Ravanetti, venga, venga, è un regalino speciale, un bel portachiavi, un bel portachiavi, ciao a tutti e grazie